Salve a tutti ben ritrovati, oggi faremo un intervento sul montaggio con Premiere Pro CC 2020 e affronteremo una tematica abbastanza comune, come si gestiscono i video di lunga durata. Può capitare molte volte di dover aggiungere al nostro montaggio delle selezioni da contributi di lunga durata, magari di decine di minuti o addirittura anche di ore. Pensiamo per esempio a riprese continue di quelle che possono essere incontri, assemblee, forum oppure dei concerti. Vedremo che l'utilizzo di strumenti come proxy, marcatori e le clip secondarie ci potranno aiutare a gestire il flusso di lavoro con questi contributi provenienti da riprese molto lunghe. Ci troviamo all'interno di Premiere Pro, vorrei simulare un po' questa situazione. Ho aggiunto al mio pannello progetto questa clip ARC 45016 della durata di circa una mezz'oretta. Un po' proprio per simulare questa idea della durata molto lunga, ho deciso di scaricare questa clip dall'Internet Archive, dove troviamo questi documentari, a volte veri e propri film, disponibili per lo scaricamento e l'utilizzo. Quindi qui ho scelto appositamente questo documentario vintage della NASA. Spesso al concetto di video di lunga durata si associa anche la pesantezza del video stesso, che ovviamente essendo molto lungo, magari non compresso, può occupare uno spazio di decine di gigabyte e rendere magari difficile la lettura all'interno del programma. Il primo strumento che ci può aiutare quindi è l'assegnare un cosiddetto proxy. Crearlo o assegnarle uno già pronto può alleggerire il lavoro di ricerca e di controllo all'interno del video. I proxy possono essere creati in automatico quando si imposta il progetto, possono essere creati invece anche al volo o magari direttamente assegnati. Nel nostro caso potremmo andare a prendere il nostro video nel progetto, andare a scegliere proxy. Con Crea Proxy si va a creare con questa particolare modalità, per esempio H.264, quindi MP4 e qui dimensione, si va a creare al volo un proxy e quindi aggiungerlo, allegarlo a questo file video esistente. Quando si dà l'ok parte il media encoder e inizia tutto il processo. Per sveltire un po' vado invece ad assegnarlo perché ne ho uno già pronto, tasto destro, proxy, allega proxy. Vado a segnalare che per questo particolare video, ecco, vado ad allegare un video in bassa risoluzione, per esempio questo qui che ho già pronto nelle mie cartelle. È circa un quinto rispetto all'originale se parliamo di peso. Do l'ok. Da qui in poi sarà oggettivamente più semplice leggere questo video. La qualità sarà molto bassa, d'accordo, però avremo la possibilità di scorrere con più fluidità all'interno di questa lunga massa di informazioni. Arriva poi il momento in cui devo guardarmi questo video di 20, 40, 100 minuti. Ovviamente farò questo momento di osservazione e di studio all'interno del monitor sorgente. I marcatori diventano fondamentali a questo punto, ci permettono di segnalare, evidenziare, soprattutto per ricordare poi alla fine quelli che sono i momenti importanti. Posso aggiungere delle etichette colorate, posso aggiungere l'uso del pannello marcatori. Questi strumenti mi permetteranno di ritrovare facilmente i contenuti. Vista la lunghezza dei contenuti, privilegio come metodo di spostamento, il metodo JKL. Vediamone un esempio. Faccio doppio clic e qui posso ovviamente iniziare a fare play e guardare il mio video. Adesso magari mi aiuto un po' con il JKL, in particolare LL, qualche volta per andare un po' più veloce e tengo il dito lì vicino dove c'è la tastiera, dove c'è il tasto M che mi permette di assegnare al volo dei marcatori. Adesso faccio K, torno un poco indietro, qualche J, K, ecco diciamo che da qui in poi mi va bene come momento interessante. Quindi questo momento in cui ci sono dei razzi, delle riprese di partenze, allora premo M ed ecco il mio marcatore. Ripeto questa procedura osservando il mio video un po' di volte. Adesso magari salto qualche punto ovviamente perché non abbiamo 27 minuti per guardarci il video. Qui magari con questa terra. M, vado un po' più avanti. M. E vado ancora un po' avanti. Qui magari con queste riprese della luna. M. Per assegnare il marcatore. Già così posso ripercorrere velocemente cose che mi sono sembrate diciamo interessanti. Mi aiuto inoltre con il pannello marcatori. Pannello marcatori ecco che ci permette di creare una sorta di listato, di script in cui recupero velocemente i momenti interessanti. Potrei anche fare un bel doppio clic su questi marcatori, dare dei nomi, missile, gli do un'etichetta colorata, gli do anche una durata. Insomma rifacciamo qui uno stack un po' più ampio così da vederlo un po' di più. Ovviamente in questo spazio, in questo zoom, un'etichetta di secondi e minuti risulta comunque molto piccolina. Vediamo uno zoom un po' più piccolo e poi navighiamo nei vari marcatori. Poi sempre un doppio clic. Terra. Facciamo la durata di 10 secondi. Eccolo qui. Prendiamo quello dopo. qui potrebbe essere l'una. Diamogli sempre un colore. 10, 0, 0, 10 secondi. Lo clicco così ci arrivo. E arriviamo anche all'ultimo ancora a l'una. L'una, 2. Facciamo 15, 0, 0, cioè 15 secondi. Zoom un po' all'indietro. Ecco che comunque adesso è sicuramente più facile ripercorrere i momenti interessanti di questo video lungo. A questo punto potrebbe iniziare sempre nel mio monitor sorgente il percorso tale per cui inizio a prendere la sezione che mi interessa di più, quella identificata dal marcatore, e aggiungere i marcatori di attacco e stacco gli in e out, così da trascinare nella timeline le mie varie porzioni. Benissimo fare questa procedura, ci pone già verso il montaggio finale. A questo punto forse si potrebbe fare un piccolo passaggio in più. Invece che limitarsi a segnare in e out di volta in volta, quindi tante volte sullo stesso video, potrei andare a generare delle clip secondarie o subclip, creare delle entità autonome, dei veri e propri clip autosufficienti, dove in realtà è una simulazione, non è vero, però con queste clip autosufficienti posso far finta di avere tanti contributi già pronti per l'uso, che io o un'altra persona può montare in maniera più comoda. Sono molto facili da generare, possiamo usare sia il tasto destro o la CTRL-COMMAND-U per generarli, come scorciatore da tastiera. In seguito poi li tratteremo come dei normalissimi video se stante, quindi magari li raccogliamo in un raccoglitore e potremmo anche esportarli a beneficio di altri. Diamo un esempio, io identifico questa porzione del missile, per esempio faccio il mio classico in e il mio classico out, scegliamo un po' dopo ecco, il mio out all'interno sempre del monitor sorgente. Non solo quindi vado a eventualmente rascinarli giù nella timeline per raggiungerli, ma purtroppo posso fare un tasto destro, crea clip secondaria. Questo potrei chiamarlo missili. Do l'ok. Ecco che nel pannello progetto si crea la clip secondaria missili, che ha una sua durata, una sua autonomia. Nella visualizzazione elenco tra l'altro si nota questa icona un po' speciale, si riconosce subito la tipologia. Lavoro sempre con il pannello dei marcatori, riprendo la mia clip, viaggio verso altri marcatori e anche qui decido di fare degli in e degli out. Adesso trovo il comando clip, crea clip secondaria, ecco la scorciatoia, control o command u, terra. Facciamo successivo. Inizio qui con la luna e vado un po' avanti. Adesso vado da tastiera, command, control u, luna. E faccio l'ultima. Faccio un in e un out. command, control u, luna, due. Adesso torno nel mio pannello progetto, effettivamente ecco le mie clip secondarie. Potrei anche raccoglierle. Nuovo raccoglitore, secondarie, e poi le inserisco qua dentro. Quindi anche un'altra persona, eventualmente ecco un collaboratore, potrà trovare, mancava una, potrà trovare più comodo andare a montare il lavoro guardando direttamente queste selezioni già fatte. Per esempio parto, non so, con la terra, eccola qui. Poi magari la luna. E poi i missili. E così via. Diventa oggettivamente più semplice e più comodo invece che mettere decine di ritagli in pratica da questo ARC 45. Ecco, ho reso sicuramente il processo, anche proprio per l'utilizzo dei nomi, delle durate. Il processo è diventato più fluido, più intellegibile per tutti. Ora posso andare avanti col mio montaggio. Una variante di questo flusso di lavoro è che noi possiamo tranquillamente esportare anche direttamente dal pannello progetto. Il comando di esportazione effettivamente funziona su ciò che è selezionato, quindi se stavolta non clicco come al solito nella sequenza, ma vado a cliccare su uno o più elementi, ecco che potrei esportare queste selezioni direttamente in maniera più comoda. Seleziono questi quattro elementi, scelgo il comando File, Esporta, File Multimediali. Mi trovo di fronte alla finestra di esportazione, però in questo caso, visto che partiamo dal progetto e poi una selezione multipla, è un po' diversa. È una versione ridotta perché appunto non ci può far vedere le anteprime e quindi qui parliamo solo della tipologia, scelgo H.264 e appunto il tipo di video, per esempio una versione ridotta in MP4, come in questo caso. Potrò sicuramente poi attivare tutte le casistiche, gestire la compressione con video e con audio, aggiungere eventualmente una serie di effetti. Il pulsante finale mi propone coda, perché effettivamente sono quattro elementi, quindi vengono messi in coda nel Media Encoder. A questo punto parte il Media Encoder. Ed eccoci qua, non mi resta altro che appunto esportare velocemente questi quattro contributi. La mia esportazione ha avuto luogo, ecco i miei quattro video esportati. Per riassumere, abbiamo visto come in certi flussi di lavoro, quando abbiamo riprese di lunga durata, l'unione di strumenti come i proxy, i marcatori, le etichette colorate e soprattutto le clip secondari, ci permettono di ottenere un flusso di lavoro un po' più agevole, che rende più facile sia il nostro lavoro, sia l'eventuale collaborazione con altre persone. Oggettivamente è veramente comodo, soprattutto nel caso in cui si vada a riaprire un progetto dopo mesi o addirittura anni, a ritrovare tutte queste annotazioni e ritrovare questo lavoro già svolto e pronto per l'uso. Qui siamo pronti per ricominciare anche anni dopo la prima visione di questa ripresa di lunga durata.